Ogni giorno fai anche tu, vai! Grazie, buongiorno Ettore, Teresa, buongiorno a tutti, buongiorno Matteo. Io vi ringrazio per questa opportunità e partirei da un sentimento emotivo e personale, cioè veramente non posso nascondere, anche dopo l'intervento di Matteo di oggi, la soddisfazione e l'orgoglio di essere un deputato di Italia Viva. Lo voglio dire perché Matteo Renzi ha guidato Italia Viva in questi due anni cambiando il destino dell'Italia. Lo dico come italiano, come deputato del nostro Parlamento e consentitemi anche come imprenditore di questo Paese che nel fine luglio del 2019, quando erano i giorni del papete, io vivevo quei momenti con grandissima preoccupazione e la vedevo veramente dura. Per essere chiaro, nel 2019 c'era un'onda sovranista, populista, che marciava, cioè non era solo un fatto parlamentare, lo si percepiva nelle strade, nelle piazze del Paese. C'era anche una parte, dobbiamo dire, del centro-sinistra che era ormai piegata a questa idea, l'idea di un accordo per andare a elezioni. Io ho sentito il bisogno, è stato un mio bisogno, di cercare di chiamare l'unica personalità che avesse la forza e il coraggio di ribaltare ormai quell'onda e quell'accordo sottostante che c'era, cioè di portare il Paese a elezioni. Matteo da solo prima e poi con Italia Viva ha cambiato il destino, riportando l'Italia dall'essere uno degli ultimi vagoncini del treno europeo, riportandola nel cuore dell'Europa e con l'avvento del governo Draghi probabilmente portandola ad un ruolo di guida dell'Europa, nel Consiglio europeo, nella Commissione. Siamo diventati un Paese che dagli ultimi oggi è un punto di riferimento sulla politica internazionale. E quel Parlamento del 2018 che nasce con una maggioranza sovranista, grazie a Italia Viva, grazie a Matteo, grazie al coraggio di tutte le donne e gli uomini di Italia Viva, ha votato la fiducia all'ex Presidente della Banca Centrale Europea. Matteo ci ha insegnato e mi ha insegnato che non dobbiamo avere paura, che non si devono fare calcoli, che non dobbiamo essere timorosi se c'è di mezzo il bene del Paese, se c'è di mezzo il bene. L'avvento del governo Draghi è la risultante di un atto di coraggio incredibile che ho avuto l'onore di vivere in prima persona e che ancora oggi, a mesi di distanza, mi sta insegnando molto. Un atto di coraggio che ha fatto il bene dell'Italia, il bene della politica italiana. Ebbene, e vado a concludere Ettore e Teresa, tutto questo è bellissimo, ma qualcuno potrebbe dirmi, dicendo, va bene, avete fatto delle cose straordinarie, ma tutto questo è già passato. No, tutto questo siamo noi, siamo la comunità e la forza di Italia Viva e del futuro che abbiamo ancora di fronte davanti a noi, che si è visto, come diceva Matteo nel suo intervento, si è visto bene anche nel risultato delle elezioni amministrative. Noi ci siamo, ci dobbiamo essere, in un progetto riformista, liberale e democratico. Non dobbiamo avere paura e vorrei che fossimo ancora una volta, come lo siamo stati in questi due anni, i protagonisti della politica. Penso che le donne e gli uomini di Italia Viva, di questa Assemblea Nazionale, non abbiano paura, anzi, abbiano l'orgoglio di essere a fianco di Matteo Renzi per lanciare e progettare la nuova sfida che è oggi e che è il domani e che abbiamo visto nelle ultime elezioni amministrative. Grazie Teresa, grazie Ettore, grazie a tutti.